ciao e benvenuto su questo nuovo video sul canale di vince oggi parleremo di programmazione neuro linguistica la pnl è una disciplina molto molto interessante io me ne occupo da metà anni 90 e la insegno professionalmente dal 1999 io sono un master trainer di pnl questa prima lezione cercheremo di capire in poche parole come funziona e parleremo già di empatia di quanto sia importante e come crearla soprattutto allora la pianela e nasce più o meno intorno agli anni 70 ad opera di richard bander e john grinder che sono due ricercatori tuttora vivi e questi due personaggi straordinari che poi adesso hanno litigato da quello che sono non so se hanno fatto pace ma sono divisi hanno capito una cosa interessante che se esiste al mondo una sola persona in grado di fare una determinata cosa anche noi possiamo farla semplicemente ispirandoci a questa persona questo processo viene chiamato modellamento che non va confuso con lo scimmiottamento cioè vedo uno lo copio pari pari mi vesto come lui parlo come lui mangio come lui sì in parte può essere anche così ma in realtà bisogna ispirarsi un modello questa è una cosa che noi abbiamo fatto da ragazzini per esempio tu non sapevi come conquistare una ragazza hai un amico che riesce a farlo e comincia a fare quello che fa lui no ti vesti in quel caso come lui ti atteggi un po come lui e cerchi di fare un po quello che lui fa ma ovviamente non lo fai pari pari sperando di ottenere un risultato poi a volte ci siamo anche spinti addirittura a vestirci come cantanti mi ricordo quando c'era george michael per cui c'era la moda della barbetta l'orecchino con la croce poi c'era la pettinatura con diciamo la specie di tettoia tutta con la lacca tutta sta robetta qua è ovvio che tu non diventavi george michael ma era un modo per ispirarti a un modello ora interessante questo perché la pnl la programmazione linguistica fa questo in maniera molto molto precisa in maniera molto tecnica per cui se c'è un bravo venditore anche io posso imparare a vendere come lui utilizzando lo strumento del modellamento e quindi imparando a rapportarmi con gli altri imparando a seguire una sequenza di proposta del prodotto faccio esattamente quello che fa lui o addirittura lo posso anche migliorare perché lo adatto al mio modello oppure voglio diventare un bravo terapeuta in questo caso la pnl per esempio ha modellato tantissimi terapeuti eccezionali come milton ericsson fris pers virginia satire e tanti altri e hanno formalizzato alla fine banner e grindere tutta questa serie di schemi e quindi la programmazione neuro linguistica fornisce già tra virgolette una specie di pappa pronta per chi vuole creare empatia chi vuole imparare a risolvere determinate cose chi vuole parlare in pubblico chi vuole vendere quindi a 360 gradi chi vuole riconquistare la persona amata chi vuole creare armonia nella sua famiglia quello che per esempio noto è che la maggior parte dei disinformati o di quelli in cattiva fede spesso dicono alla pnl sì sì tecniche di vendita questo capita per due modi principali associata solo alla vendita che veramente è come dire si guarda il coltello serve solo per avvitare viti senza cacciavite una volta ho visto uno che ci avvitava una vite ha detto sì sì serve solo per quello e la stessa identica coltello per fare un sacco di roba per dire puoi tagliarti il pane puoi tagliarti la carne la verdura quello che vuoi puoi difenderti se qualcuno ti aggredisce o purtroppo anche aggredire qualcuno infatti a volte per esempio dicono che la pnl sia manipolativa ma in realtà la pnl non è manipolativa la pnl è semplicemente una disciplina e quindi è soltanto il cuore di chi la usa che può indirizzarla verso il bene o verso il male come dire non so un commercialista che aiuta le persone a pagare le tasse in maniera giusta è il commercialista che aiuta e vada il fisco cioè sono due persone che vengono tutte e due dalla stessa università ma uno magari è bravo e l'altro un figlio di buona donna ci sono persone brave e persone meno brave quindi bisogna fare questo passaggio mentale ulteriore che alcune persone un po limitate non riescono a fare ma bisogna farlo per forza e una cosa molto bella della programmazione neurolinguistica e il concetto di empatia di flessibilità e quindi adesso veniamo anche una tecnica che vi posso dare all'interno di questo video cos'è l'empatia l'empatia la capacità di mettersi nei panni degli altri cosa che noi abbiamo da piccoli già in maniera innata c'è il nostro amichetto per esempio ride comincia a divertirsi come un matto lì e anche noi cominciamo a ridere come dei pazzi tuttora questo ci capita si dice il sorriso è contagioso oppure il nostro amichetto cade magari siamo molto piccoli abbiamo qualche anno e questo qua comincia a piangere e anche noi iniziamo a piangere senza esserci fatti male perché perché da piccoli non distinguiamo le nostre emozioni da quelle degli altri quindi facilmente ci facciamo influenzare a questo punto di vista poi crescendo perdiamo questa capacità tanto che al punto che se c'è una persona sta crepando in mezzo alla strada come l'altro giorno ero ero in macchina e c'era una signora anziana poverina che si sbracciava cercava di far fermare qualche macchina e tutti la scansavano come se fosse la peste bubonica e io se vengo a parlare di empatia mi sono fermato apro finestrino sta signora doveva andare in ospedale aveva perso per dire l'autobus e l'ho accompagnata l'ho accompagnata quasi vicino non ha voluto perché c'era un'aria pedonale per arrivarci però l'ho accompagnata fin dove ho potuto quindi questa cosa è interessante non siamo più empatici o meglio ci sono persone empatiche anche da adulte sono quelle persone molto abili a creare relazioni positive costruttive sono quelle persone che grazie all'empatia grazie al fatto che si mettono nei panni degli altri creano relazioni di fiducia quindi quando chiedono un favore chiedono una cortesia chiedono un'informazione la gente è disponibile con loro perché perché sono un rapporto empatico e questo questa è la grande differenza tra uno che in un'azienda fa una fatica boia a farsi ascoltare dai suoi colleghi o addirittura dai suoi collaboratori dice una cosa e se per esempio un capo è costretto a urlare sulla testa di queste persone è costretto a dire queste persone si impongono il capo che si impone no e dici mizze quanto so figo ah fa così pensiamo scusate mi è venuta sta parte siciliana non so da dove mi è venuta fuori però è carina e si impongono sì sì magari anche tu che sei bergamasco e che sei uno di quei capi che si incazza in realtà è una parte che fa a mizze quanto so figo no non sei figo sei autoritario non sei autorevole e nella leadership ci vuole autorevolezza che vuol dire ogni tanto anche usare un po la determinazione ma molte volte va usata l'empatia ora l'empatia è la capacità di capire gli altri la capacità di entrare nella loro mente la capacità di capire quello che stanno provando in quel momento la capacità di accogliere queste persone e di portare poi verso quello che può essere un nostro obiettivo perché sarà più facile che ci dicano di sì e questa non è manipolazione semplicemente significa sintonizzarsi sulla frequenza di quella persona manipolare un'altra roba manipolare è urlare su una persona tu devi fare così questo è manipolazione anzi questa si chiama intimidazione prendere per il culo ah sì 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 ma guarda non ti preoccupare ti do quella promozione che tanto vuoi sicuro tu fai questi straordinari questa si chiama manipolazione perché poi magari non mantiene il patto oppure fare leva su sensi di colpa questo spesso nei rapporti di coppia tra amici fratelli sorelle lo si vede ma sì va bene fai come vuoi tu sappi che poi la mamma rimane da sola sai ormai ho preso i biglietti per le maldive e quindi se vuoi vai pure anche tu in vacanza la mamma rimane da sola sentiti non sei degna di essere proprio una degna figlia ecco questo è un esempio di manipolazione c'è se questo un esempio fra due sorelle due fratelli che dove uno fa sempre i cazzi suoi e quando l'altro una volta tanto di dicendo vabbè prendo e vado dice sì non sei degno di essere chiamato figlio di fa l'altro per farlo sentire in colpa questa è manipolazione quindi sono ridicole tutte quelle persone che poi vengono a parlare dicono che la pnl manipola la pnl aiuta a creare empatia la pnl aiuta veramente la gente a creare rapporti costruttivi rapporti positivi e c'è un bellissimo lavoro fatto da daniel goleman in intelligenza emotiva un libro molto vecchio però è bello perché fa vedere attraverso esperimenti fatti per esempio in aziende o anche nella vita privata che lì dove una persona crea rapporti empatici crea una rete di relazioni quello aiutano ok quindi per esempio in questo libro si parla questo esperimento dove prendono due persone in un'azienda dove danno due compiti identici da risolvere entro un tot di tempo è uno di questi non è assolutamente empatico potremmo dire molto tecnico molto preparato ma simpatico è empatico come la sabbia delle mutande poi simpatia e empatia non sono la stessa cosa ovviamente poi magari sia un po di tempo te lo spiego spiego quella differenza e l'altro invece molto empatico preparato un po meno rispetto all'altro morale della favola chi ha risolto prima il compito chi ci è arrivato prima quello empatico perché ha sfruttato la forza di tutti tutti quanti erano ben disposti e soprattutto disponibili a dare una mano cioè aveva bisogno di una cosa andava a chiedere scusa ma com'è che si fa sta qua la gente gli dice sì sì fai così quello invece antipatico e empatico come la sabbia delle mutande quando andava a chiedere qualcosa ma non ci andava neanche non ci andava neanche perché non aveva creato queste relazioni capisci quanto è importante la programmazione linguistica fornisce veramente tanti strumenti per chiara empatia che si chiamano tipologie di rapport rapport su valore e convinzioni il rapporto di postura chiamato rispecchiamento mirroring come amano dire alcuni appunto prendendo spunto dal vero nome americano come si chiama mirror specchio mirroring quindi rispecchiando un po rapporto emotivo rapporto assertivo rapporto verbale c'è nessuno una marea e padroneggiare tutte queste tipologie di rapporto è molto importante oggi te ne voglio parlare di una che è fondamentale che quella per esempio di capire la mappa del mondo di chi è di fronte e condividere la mappa la mappa è fatta di valori e convinzioni valori e convinzioni sono pilastri che ci dicono quello che è vero cosa è reale le convinzioni nello specifico ci dicono cosa è reale nella nostra vita e i valori sono il carburante delle nostre azioni i valori per esempio sono amicizia libertà giustizia successo finanziario successo sociale ce ne sono tantissimi questi e la cosa interessante è che ogni persona ha la sua gerarchia di valori e fa molte scelte anzi tutte le proprie scelte nella maggior parte dei casi dipendono proprio da questi valori quindi una persona che al primo posto ha valore famiglia è ovvio che sarà influenzato tantissimo nelle sue decisioni se cambiare lavoro lo farà in funzione della famiglia se per esempio andare a fare una vacanza la farà in funzione della famiglia sarà molto influenzato diversamente invece chi ha il valore libertà al primo posto che vuol dire per esempio valori sono generalizzazioni quindi bisognerebbe capire che cosa intendiamo esattamente per famiglia o cosa intendiamo esattamente per libertà ad esempio quello che dice libertà libertà di far quello che voglio fondamentale libertà di scelta di poter far quello che voglio non rendere conto a nessuno quindi quello fa delle scelte molto diverse rispetto a quello che ha il valore famiglia per cui mentre magari il primo se cambia posto di lavoro lo fa in base al fatto che può dare più soldi alla famiglia può farli vivere meglio e magari può essere anche presente un po di più diciamo nella famiglia poi dipende appunto da come viene inteso famiglia mentre libertà prenderà in considerazione soltanto lavori che fondamenti gli fanno guadagnare i soldi per fare i cavoli suoi che non lo facciano sentire costretto magari per esempio il primo sopporta anche situazioni sul lavoro che privano privano della libertà l'altro ma neanche morto dice io faccio quello che voglio mi prendo anche il lusso di stare magari sei mesi senza far nulla piuttosto che star lì a farmi dire da un altro da un da un cretino quello che devo fare quindi capisci quanto è importante e le convinzioni sono altrettanto tant'è che i valori e convinzioni sono prettamente legati le convinzioni sono tipo non so io credo nella libertà credo nell'amicizia credo per esempio che al mondo non ci siano persone buone deve essere sempre di convinzione limitate oppure credo che la vita sia piena di positività ecco le prime credenze che ti ho detto addirittura celano al loro interno un discorso legato ai valori le altre un po meno magari sono più legate ad esperienze di vita ma sicuramente se scavi ci sono anche lì dei valori collegati che sono stati generati da quel tipo di esperienze ma la morale della favola è che se io ho una persona che mi rivela la sua mappa del mondo io dovrei condividerla o quantomeno accettarla davanti a lui c'è uno che mi dice ma sai per me è importante la libertà insomma poter decidere di fare quello che voglio magari ti dice sì nel rispetto degli altri però io ho voglia di fare quello che voglio quella gente che si impegna che fa se ci voglio andare d'accordo devo condividere questo valore cioè non li posso dire no ma per me sta gente che vuole fare le cose che vogliono sinceramente sono persone che non sono come dire non hanno impegno sono persone così allora tu stai strappando la sua mappa del mondo non stai creando empatia poi non ti puoi lamentare che poi con questa persona non ci va d'accordo che non ti invita al compleanno se il tuo capo non ti dà l'aumento lo dà l'altro che è più paraculo di te nel fare queste cose sì uno potrebbe dire ma questo è significa essere paraculi dal mio punto di vista no dal mio punto di vista occupandomi di comunicazione efficace da un sacco di anni non significa essere paraculi significa capire come funziona la mente umana e capire che se tu condividi i valori dell'altro e convinzione dell'altro quello che ti dice anche credo che nel mondo non esista l'amore se tu vuoi convincere del contrario la prima cosa che devi dire beh certo effettivamente se ci guardiamo attorno insomma non è che se ne veda tanto di amore allora lui sente che tu sei d'accordo con lui lui si apre poi tu potresti dire ogni tanto capita di vedere qualche situazione dove c'è l'amore quindi pian piano lo guidi e poi puoi fargli cambiare addirittura idea capisci come funziona non puoi aggredirlo dicendo ma no ma sono tutte cazzate ma tu ma dove hai vissuto fino adesso il mondo è pieno d'amore guarda guarda quanto amore c'è non ti ascolta neanche quindi l'importanza di capire questo la condivisione della mappa dell'altro questo richiede sicuramente tanta flessibilità mentale perché noi abbiamo la nostra mappa e quindi quando dobbiamo condividere quella di un altro io devo avere ragione perché devo avere ragione all'altro facciamo così facciamo così ci impuntiamo e poi ci incazziamo che l'altro rifiuti di darci una mano ci arrabbiamo che l'altro va d'accordo più con un'altra persona non è così poi il secondo punto è che non è detto che io debba essere per forza d'accordo con questa persona io posso per vedere che sono aperto sul punto di vista ma posso anche dire guarda molto interessante così mi limito lì ma non mi metto a dire come dire sì 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 sono perfettamente d'accordo con te cioè magari una cosa che è contraria proprio la mia mappa mi limito a non giudicare a non esprimere un giudizio di valore ecco perché quello è come dire l'elemento che fa danni eviterò di fare questo punto evitando di fare questo riuscirò a mantenere rapporto a creare empatia bene le prossime lezioni ti spiegherò altre cose interessanti sulla programmazione neuro linguistica spero che questo video ti sia piaciuto se ti è piaciuto mi raccomando like e pollicione in su condividilo con i tuoi amici se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti adesso e clicca sulla campanellina così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video bene io ti mando un bacio un abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao